Rispetto, verso tutti, ma con la chiarezza di chi siamo, ciò che vogliamo e dove andiamo. Dialogo, con la chiarezza di che cosa proponiamo, di come lo facciamo e con la fondamentale differenza di sapere che le scelte fatte sono condivise con chi ha più esperienza di noi. Passione, etimologicamente, indica sofferenza. Sofferenza per come sono le cose e voglia, interiore ed esteriore, di fare il possibile per cambiarle. Passione per la vita, passione per la nostra storia, passione per la nostra gente, passione per la famiglia, per gli anziani, per i giovani, per i bambini. Passione, perché non siamo perfetti, nessuno, ma perfettibili. Coraggio, ci vuole coraggio per metterci la faccia quando sai che potresti non farcela. Coraggio per le scelte che possono sembrare controcorrente, ma che sono per il bene di tutti e non solo per le poltrone di qualcuno. Insomma, coraggio, perché non c'è vero rispetto verso gli altri senza un dialogo che nasca dalla passione di voler essere ciò per cui ognuno esiste.